carissimi fratelli sorelle amici cari pace buona giornata dio vi benedica oggi 19 gennaio e leggiamo insieme nella parola del signore in particolare leggeremo in colossesi al capitolo 2 verso 6 e verso 7 dove ispirato dallo spirito santo l'apostolo paolo scriveva come dunque avete ricevuto cristo gesù il signore così camminati in lui radicati edificati in lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata abbondate nel ringraziamento paolo ci mostra o meglio lo spirito santo per la penna di paolo ci mostra l'energia segreta del nostro cammino cristiano su questa terra cioè l'essere radicati in cristo gesù l'essere radicati ci richiama inevitabilmente alla mente le radici soprattutto quelle degli alberi ma non solo di qualsiasi altra vegetale che c'è sulla terra e queste radici anche se non sono visibili sono quelle che permettono agli alberi ad esempio di rimanere in piedi e più affondano nella terra le loro radici più l'albero e saldo e resiste anche al vento impetuoso e questo ci ricorda che noi come cristiani dobbiamo avere un rapporto intimo col signore al di là di quelle che possono essere le manifestazioni religiose che sono visibili a tutti e che erano proprio anche dei farisei e degli scribi ci deve essere una relazione interiore che quella che fa la differenza poi in fin dei conti ed è quella che ci permette di poter di raggiungere un'intimità con il nostro creatore di poter abbracciare la lunghezza la larghezza l'altezza e la profondità dell'amore di dio queste radici sono lo strumento che dicevamo permettono anche all'albero di rimanere fermo anche quando il vento impetuoso più profonde sono più sono le possibilità che l'albero sopravviva e così è della nostra vita cristiana ci sono prove sì certo tentazioni di sicuro ma più è rintima la nostra relazione col signore più siamo radicati nel signore più noi siamo capaci di poter resistere a questi attacchi che altrimenti ci farebbero barcollare ci farebbero essere sballottati qua e là le radici inoltre garantiscono anche la crescita dell'albero perché tramite di esse ci succhia la linfa vitale che permette all'albero di essere rigoglioso e sempre verde così è della vita del cristiano noi cresciamo verso l'alto nella misura in cui ci radichiamo in cristo gesù e la nostra vita continua ad essere una vita vigorosa nella misura in cui la nostra fede si rinnova giorno dopo giorno tramite la nostra relazione col signore e il il nostro essere vivi dentro il nostro non invecchiare nello spirito è strettamente correlato proprio a questo essere radicati nel signore perché appunto continuiamo ad essere vigorosi anche se il nostro corpo esteriore si va via via disfacendo l'uomo interiore quindi si rinnova all'immagine di cristo allora quando noi permettiamo alla nostra vita di poter essere strettamente legata a colui che ci ha talmente amati da dare la sua vita per la nostra salvezza quindi è tramite cristo che noi riusciamo a realizzare una profonda relazione col signore e tramite cristo che noi realizziamo forza energia spirituale e tramite cristo che noi possiamo crescere svilupparci e resistere agli attacchi agli assalti del nemico delle anime nostre non solo l'apostolo paolo aggiunge che siamo edificati in lui cioè fondati su di lui come un edificio viene costruito su un fondamento solido così ancora la nostra vita spirituale si deve basare sul signore e di consauenza la nostra fede si rafforzerà e la conoscenza di cristo la comunione con lui il godimento di ciò che egli è il possesso di tutto ciò che è racchiuso nella sua persona benedetta ci renderanno sempre più stabili negli insegnamenti della parola di dio la vita cristiana non è un problema di intelligenza o di cultura ma la vita cristiana un qualcosa di strettamente correlato alla fede che arriva in padronirsi del cuore degli affetti oltre che della nostra intera vita quando tutto questo diventa realtà allora avviene che noi abbondiamo nel ringraziamento e cioè l'anima nostra si sente allegra fiduciosa e di conseguenza si sente in dovere di ringraziare dio per tutto quello che da lui riceve non soltanto l'aiuto materiale che certo è qualcosa di auspicabile di importante ma innanzitutto la forza spirituale è quella che ci permette di poter affrontare anche le circostanze più avverse della vita con la certezza che anche in quelle situazioni il signore saprà trarre gloria per il suo nome con la certezza che quando lui permette qualcosa è solo perché ha un piano un piano che noi magari non riusciamo a comprendere nell'immediato ma che certamente nell'eternità vedremo essere stato qualcosa di utile per la nostra salvezza e allora cari ascoltiamo il consiglio della parola di dio radichiamoci edifichiamoci abbondiamo nel ringraziamento e certamente l'anima nostra ne terrà benefici e un giorno quando saremo nella presenza di dio lo ringrazieremo ancora una volta perché ci ha aiutato a rimanere gli fedeli fino alla fine e per quella fedeltà noi saremo stati salvati che la grazia l'amore la presenza la guida l'unzione dello spirito di dio sia su tutti quanti noi pace del signore grazie a tutti grazie a tutti